Le tende devono avere come schermature solari, devono avere il G-TOT inferiore a 0,35 e installate ovest, sud-ovest, sud-est, oest. Non a nord, non nord-est, non a nord-ovest, devono coprire una copertura, schermatura di una superficie detrata e se non ho nessun preziario faccio un'analisi prezzi, un nuovo prezzo, è semplicissimo.